Riparte l'attività della TMA, la terapia multisistemica in acqua alla piscina di Fogliano della Chiana per ragazzi e ragazze con difficoltà della relazione e dello spettro autistico. Siamo molto contenti della risposta che abbiamo potuto dare nell'anno scorso e da quest'anno abbiamo un nuovo operatore per i nostri bambini e ragazzi autistici con disturbi della relazione e siamo presso la piscina tutti i giovedì con i nostri operatori pronti a svolgere le attività di terapia per i nostri ragazzi. Il comune di Fogliano della Chiana sostiene questa attività con un apposito bando per i contributi in uscita il prossimo 15 ottobre. L'anno scorso ha avuto un gran successo, una grande partecipazione e per questo voglio ringraziare i gestori della piscina e gli educatori. Spero che anche quest'anno abbia il medesimo successo in quanto abbiamo riscontrato che questa tipologia di terapia è molto funzionale per i bambini e i ragazzi che hanno disturbi della relazione e questo è un modo da parte dell'amministrazione di stare accanto alle famiglie.